Una delle problematiche principali che ci sono sono proprio le malattie muscoloscheletriche che sono dovute appunto a sollevare carichi. Una cosa banale finché vogliamo ma chi lo prova e lo fa tutti i giorni in cantiere sa cosa significa. Tirare su centinaia di sacchi di cemento questi sistemi sono sempre più raffinati questo è appunto tramite sensori permette di gestire, di calibrare anche l'aiuto che lo strumento dà e quindi aiutare per esempio in questa posizione. Devo stringere però. Tendenzialmente l'operatore quando ha dei pesi ha la possibilità avvicina al corpo. Non solo le braccia quindi varie tipologie legate agli sforzi nei sollevamenti pesi ma anche la schiena completamente libera. Grazie. Grazie.